Non c'è Natale senza Giovanni Battista, cioè non c'è Natale senza l'annuncio dell'amore di Dio. Maria ha ricevuto un annuncio, Giuseppe, i pastori, i remaggi hanno ricevuto un annuncio. Tutti noi abbiamo bisogno della Chiesa che con la sua predicazione illumini il nostro cuore, illumini la nostra mente perché possa capire il desiderio profondo nel quale siamo stati creati. Perché Dio ci ha creato capaci di Lui, ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto fino a che non ti trova e non ti accoglie, dice Sant'Agostino. Tutta la tua vita è come un puzzle perfetto dove Dio ha messo i vari pezzi e al centro di questo puzzle c'è un posto che è a forma di croce preparato per il nostro Signore Gesù Cristo. Ingannati, noi desideriamo male. Dietro a ogni peccato, dietro a ogni macello che noi viviamo nella nostra vita c'è un desiderio infettato, un desiderio malato nella notte di Natale che è la notte dei nostri desideri infettati brilla una stella che indica il luogo dove i desideri più profondi di ogni uomo sono esauditi. Nell'incontro tra il nostro desiderio e Gesù è curato il nostro cuore perché il mistero dell'incarnazione, il mistero del Natale ci rivela che non è sbagliato desiderare anzi il nostro continuo desiderare è la firma indelebile di Dio che portiamo nel cuore. Allora ascoltiamo Giovanni Battista, ascoltiamo questo annuncio che apre i nostri occhi perché possano guardare la stella e aprono il cammino perché noi possiamo seguirla sino a nostro Signore Gesù Cristo l'unico autentico oggetto di ogni nostro desiderio l'unico che con il suo amore, la sua tenerezza, la sua misericordia, la sua pazienza, il suo perdono coincide perfettamente alla capacità infinita del nostro cuore, alle misure infinite dei nostri desideri.